a questa oretta insieme, a questa sessione in cui parleremo degli investimenti nel 2023 ed in particolare della soluzione Manifarm. Innanzitutto vi ringrazio perché siete molto numerosi e ci fa davvero piacere passare quest'ora con voi. Io direi di partire con qualche istruzione operativa per cominciare. Come vedete in basso sul vostro schermo avete la possibilità di porci delle domande via chat e avremo i nostri consulenti pronti a rispondervi live. Al termine della presentazione poi procederemo anche ad una sessione di domande e risposte che ci porrete sempre via chat e al quale risponderemo. Passiamo intanto alle presentazioni. Allora io sono Vincenzo Cuscito e sono il responsabile del team di consulenza italiana di Manifarm e sono qui con Michele Morra che è il nostro portfolio manager. Allora direi di partire e come andremo a strutturare diciamo così questa serata e questa presentazione. Innanzitutto faccio una premessa nel senso che gli argomenti che andremo a trattare sono prevalentemente dedicati a coloro di voi che non sono ancora clienti Manifarm oppure hanno attivato un account, una posizione ma non hanno ancora cominciato ad investire. Qualora ci fossero tra di voi dei clienti ecco che hanno già cominciato il loro percorso di investimento con noi magari saranno temi che già conoscono ecco. Quindi facciamo un rapido repilogo dei punti che toccheremo in quest'ora. Innanzitutto chi siamo? Chi è Manifarm? Cosa fa Manifarm? Per dire cosa fa analizzeremo un attimino quella che è la gamma di prodotti e servizi e delle soluzioni che Manifarm offre ai propri clienti. Affronteremo poi la tipologia di modello di Manifarm che rappresenta secondo noi il nostro fiorell'occhiello, il nostro elemento distintivo al quale abbiamo cominciato ad arrivare nel 2011 e che adesso stiamo vedendo anche altri competitor, ecco ci stanno arrivando, ci fa molto piacere essere di prima. Quindi mettere insieme la componente tecnologica insieme alla componente umana. Componente umana che andremo ad identificare come team di consulenza e come coloro che decidono la partita di investimento, ossia il team di asset location, il team di Michele. Dopodiché affronteremo due punti che sono molto sensibili per tutti gli investitori, i costi e le performance, quelli di Manifarm e quelli anche medi, diciamo così, di fondi concorrenti, insomma comunque di alternative a Manifarm. Abbiamo pensato di concludere poi con quella che è la domanda che più spesso ci capita di ricevere e a cui rispondiamo, ossia ma è una buona idea investire adesso, è un buon momento per cominciare ad investire. Cercheremo di dare una risposta anche a questo con l'aiuto di Michele. Infine, come avevo già anticipato, lasceremo spazio ad una sessione interattiva, ecco, di Q&A. Ripeto, le domande potete già cominciare a farceli via chat, risponderanno i consulenti e dopo risponderemo anche noi al termine della sessione. Direi di partire allora. Intanto chi è Manifarm? Manifarm è una fintech. Ci consideriamo dei pionieri, ecco, nel settore ci fa piacere pensarla così. Il nostro obiettivo è quello di rendere accessibili a tutti una gestione patrimoniale di qualità. Come? Mettendo a disposizione vostra, ecco, esperienza, convenienza, trasparenza, innovazione, la sicurezza, che ovviamente quando si pensa ad un ambiente diverso da quello tradizionale è sempre al primo posto, è soprattutto la parte umana. Cos'è Manifarm? Manifarm è una società ormai affermata. Operiamo in Italia e in Inghilterra, abbiamo all'incirca 90.000 investitori, gestiamo quasi 3 miliardi di euro di masse dei nostri clienti. Manifarm si rivolge a voi, consumatori, quindi all'ambito retail, ma si rivolge anche all'ambito istituzionale, in quello che viene definito business to business. Al momento 5 partner distribuiscono già i nostri prodotti, tra questi M&G in Inghilterra, poste italiane e banca sella, oltre a Buddy Bank, in Italia. Manifarm è stata fondata nel 2011 da Giovanni Daprano, Stratulessio e Paolo Galvani, tuttavia nel corso del tempo anche diversi investitori istituzionali hanno creduto in Manifarm e hanno investito, tra cui anche Allianz, le già citate poste italiane di M&G, piuttosto che anche Cabot Square Capital e United Venture. Passiamo al secondo punto, la gamma dei prodotti. Cosa offre Manifarm ai propri clienti? Allora, Manifarm offre delle soluzioni di investimento che spaziano da le persone che hanno già del capitale a disposizione e hanno intenzione di metterlo a rendimento, piuttosto che anche alle persone più giovani che stanno iniziando a risparmiare e quindi magari vogliono approcciarsi al mondo dell'investimento anche risparmiando magari sul proprio reddito attraverso un piano d'accumulo. Come lo facciamo? Lo facciamo proponendo delle linee di investimento bilanciate e diversificate con livelli di rischio differenti che fanno fronte a quelle che sono le caratteristiche proprie di ciascun investitore. Abbiamo sette linee di investimento che vanno dalla più prudente che è puramente obbligazionale alla linea numero uno, alla linea numero sette che è la più aggressiva che ha circa un 75-80% di azionario e la resta di parte obbligazionale. Però, come dicevo, l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei clienti delle soluzioni per le loro esigenze. Per questo ci era sembrato d'obbligo mettere a disposizione dei clienti anche un fondo pensione. Sappiamo tutti quelle che sono le problematiche legate al momento in cui andremo in pensione. Pensiamo a quello che potrebbe essere l'assegno pensionistico comparato con gli ultimi redditi che percepiremo. Quindi offrire uno strumento ai clienti per accantonare delle risorse oggi per integrare il proprio assegno pensionistico in domani ci sembrava fondamentale. Un altro servizio che proponiamo che non è assolutamente da sottovalutare in quanto gratuito e in quanto utile l'analisi del portafoglio esterno dei nostri clienti, quindi un'analisi oggettiva ed indipendente di come è allocato il proprio patrimonio di Ford Manifarm, quindi in ottica di composizione, bilanciamento, diversificazione e anche adeguatezza al proprio investitore che è risultato al momento dell'apertura Manifarm, oltre che una fotografia anche di quelli che sono i costi complessivi sostenuti, sia evidenti che magari un po' più nascosti, oltre che a quelle che sono le performance, qua mi riferisco magari ai fondi di investimento, che offrono, diciamo così, comparati con gli obiettivi, quindi benchmark, che essi stessi si danno. Abbiamo anche, sia per la gestione patrimoniale, mentre è esclusiva per il pieno pensione, la possibilità di investire su un investimento non tradizionale, bensì socialmente responsabile ISG, proprio per permettere ai clienti anche di investire in modo incline, diciamo così, al loro credo e alla loro volontà, per capirci. Tuttavia, l'obiettivo di Manifarm, ho già citato, che ci piace dire che offriamo delle soluzioni alle esigenze dei clienti, l'obiettivo di Manifarm è quello di proporsi come una società che aiuta i clienti a pianificare il proprio futuro e ad offrire delle soluzioni proprio alle esigenze, quindi per questo la gamma prodotti è sempre in ampliamento, lavoriamo molto. Infatti, volevo già passare a una nuova opzione che sarà disponibile nei prossimi giorni, che va a sommarsi a queste tre che abbiamo già elencato. In particolare, mi riferisco alla possibilità di investire anche in delle soluzioni di investimento un attimo più specifiche, vengono definite mega trend, nel senso che sono degli investimenti puramente azionari che danno l'opportunità al cliente di personalizzare quello che è l'investimento classico in gestione patrimoniale, selezionando di investire in determinati temi o, per l'appunto, trend in cui credono e che anche secondo noi possono rappresentare e dare forma al futuro. Come lo faremo? Lo facciamo con un approccio che tecnicamente viene definito core satellite, cioè affiancheremo la componente maggioritaria di una composizione di portafoglio estremamente diversificata e bilanciata dove la volatilità è contenuta, con una, appunto, defita satellite, quindi in questo caso quella mega trend, per cercare di massimizzare i rendimenti, cioè cercare l'alpha. Abbiamo selezionato tre linee tematiche che metteremo appunto a disposizione, selezionate tra quelle che sono più ricercate al momento e quelle in cui noi stessi crediamo. Nel dettaglio saranno la tecnologia di innovazione, la demografia e i cambiamenti sociali e la sostenibilità. In aggiunta a queste tre sarà anche disponibile una selezione di queste tre per magari qualche cliente investitore che ha piacere di avere esposizione a tutte le linee piuttosto che magari indeciso su quali scegliere. Tutte queste linee, così come i portafogli tradizionali, saranno investiti in ETF e saranno composti da più ETF che verranno gestiti e ribilanciati in maniera oculata e monitorata dal team di asset allocation. Passiamo ora al secondo punto, che era quello più legato al modello di Manifarm, quello che ho definito un po' il fiorell'occhiello, cioè il modello ibrido, la combinazione di tecnologia e parte umana, gestione di portafoglio e consulenza indipendente. Andiamo a vederla un po' nel dettaglio. La tecnologia rappresenta una fonte fondamentale per noi, perché ci permette di abbassare i costi e di automatizzare, di integrare dei processi al fine di velocizzare degli altri e renderli più scalabili. Abbiamo pensato di proporvi l'esempio proprio della sottoscrizione, quindi delle azioni che ciascuno di noi magari intraprenderà qualora decide se è possibile attivare una posizione in 10 minuti. Nel senso, i clienti accedono al nostro sito, inserviscono le loro mail, generano una password, vi verranno richieste atti personali, caricamenti o documenti, identificazione sempre digitale dell'identità, dopodiché verranno poste delle domande che sono quelle previste per la normativa dal questioneromifi, dal fine di delineare quello che è il profilo di investitore di ciascuno, verranno integrate poi delle domande relative alle esigenze, agli obiettivi e agli orizzonti temporali per i quali si vuole andare ad investire. Si arriverà all'ottenimento di un portafoglio ideale, adeguato ed appropriato a ciascuno di voi, oltre alla possibilità, sempre con un click, di monitorare l'investimento, accedere a tutte le informazioni, tutti i dettagli e seguire così facendo tutto il percorso. Passiamo alla componente umana. La definiremo quasi due servizi in uno a questo punto, perché come detto c'è la parte di consulenza indipendente e la parte di gestione di portafoglio. In poche parole, cerchiamo di combinare tutte le caratteristiche proprie di ciascun investitore al fine di arrivare con le migliori proposte per loro in termini sia di rischio che di rendimento. Abbiamo provato un po' a riepilogare un po' ciò che riguarda la consulenza e ciò che riguarda il team di investimento per arrivare al miglior risultato, l'abbiamo definito così per gli investitori, alla miglior proposta. Per quanto riguarda la consulenza è fondamentale andare a valutare l'adeguatezza di un'eventuale proposta. Questa viene fatta cercando di valutare la propensione al rischio di nessun cliente, come detto prima, la conoscenza e l'esperienza finanziaria, la consistenza anche patrimoniale e reddituale. Infatti è molto importante che queste informazioni siano precise ed accurate in quanto a seconda del patrimonio che si ha a disposizione si può capire quanto si va ad investire, a seconda del reddito si può capire quanto si può andare ad aggiungere e quanta volatilità si può accettare oltre agli obiettivi finanziari piuttosto di orizzonte temporale per arrivare in definitiva alla proposta di un portafoglio ideale e alla somma da investire consigliata. Tutto questo, per chi ne ha piacere, con il supporto ovviamente della componente umana, quindi dei consulenti, abbiamo un team di professionisti appunto che è specializzato nel valutare e confrontarsi con i clienti sulle loro posizioni individuali e andare a guidarli fin dal primo giorno verso il loro percorso di investimento. Parallelamente, per arrivare alla soluzione finale, c'è tutto un processo fatto dal team di asset allocation, quindi dal team di investimento, che è proprio la definizione del processo stesso di investimento, quindi con rischio, con l'asset allocation strategica, diciamo che è la strategia che sta alla base dei portafogli e che mira a lungo termine, integrata dall'asset allocation tattica, che è quella che viene, diciamo così, utilizzata anche per poi procedere con quelli che noi definiamo ribilanciamenti, cioè gli aggiustamenti e quelle calibrazioni di tutte le esposizioni e gli ETF che sono all'interno dei nostri portafogli, fino alla selezione di ETF stessi, perché ci sono diverse caratteristiche da valutare per decidere se inserire un ETF o meno all'interno del nostro portafoglio, per poi arrivare al portafoglio modello. Ecco qui che si arriva alla combinazione dei due, portafoglio modello con portafoglio ideale per il cliente, quindi ipoteticamente quello che è il miglior risultato per l'investitore. Quindi vi ho un attimino approfondito ecco quello che è la parte di consulenza, ma andiamo ancora più nel dettaglio. Perché abbiamo un team di consulenza? Perché riteniamo fondamentali i consulenti? Cosa offriamo al cliente? Innanzitutto, come ho già citato, abbiamo questo team di professionisti con esperienza anche comprovata in quest'attività che sono sempre a disposizione del cliente, perché mi piace, questo lo considero veramente il punto di partenza, i consulenti sono a disposizione per qualsiasi necessità durante tutto il percorso di investimento e per tutte le domande che riguardino l'investimento, ma anche l'emotività magari nel gestire determinate situazioni, perché veniamo da un anno, magari diversi di voi, ecco, sono già investitori e l'avranno vissuto, veniamo da un anno particolarmente difficile in cui è utile anche confrontarsi con qualcuno e ottenere del supporto. Se proviamo a repilogare in punti, cosa offriamo? Partirei dal primo appuntamento di consulenza, cioè nel momento in cui un cliente attiva una posizione con Manifarm, si trova davanti al processo per andare a definire quello che è il suo portafoglio, ideale da cui partire. Proponiamo sempre un appuntamento, piuttosto che spingiamo i nuovi clienti a contattarci al fine di conoscere i nostri consulenti, cominciare ad installare un rapporto e consigliarli sia nella fase iniziale che poi nel prosieguo della relazione. Abbiamo già citato l'analisi degli investimenti esterni e poi diciamo che il terzo punto è, magari in maniera un po' semplice, un filo diretto con il consulente, quindi un aggiornamento più o meno costante a seconda delle vostre preferenze sui mercati e sugli investimenti, sugli obiettivi degli investimenti e soprattutto anche su come revisionare la strategia della pianificazione, perché sappiamo che ciò che magari diamo per ragionevolmente certo oggi può cambiare un domani, quindi è molto importante lo scambio di informazioni in quanto qualora appunto intervenisse qualche situazione che deve, che spinge a rivedere la strategia, il consulente è proprio lì a disposizione per discuterne. Come si entra in quanto con il consulente? Al telefono? Via mail? Chat? Abbiamo introdotto recentemente anche la possibilità di vederci in video call sempre tramite l'app, piuttosto che la posizione, la dashboard che potete vedere sul sito web, anche perché riteniamo, e questo è un feedback che ci hanno dato proprio i nostri clienti, vedere chi c'è dall'altra parte, vedere che faccia ha, vedere come si muove, che sensazioni dà, ecco, mentre si parla, è sicuramente un valore aggiunto che va a rafforzare, ecco, la relazione. A questo punto direi che è il caso anche di approfondire, quindi anche l'altra parte umana, che è quella del team di asset allocation, e quindi cedo volentieri la parola a Michele che vi introdurrà al tutto. Sì, allora, io faccio parte del team di investimento, il team di investimento ha come finalità la creazione dei portafogli, quindi che verranno utilizzati dal team di Vincenzo appunto per fornire il prodotto finale al cliente. Noi, diciamo, gestiamo largo circa sette livelli di rischio dei portafogli, quindi in modo tale da fornire a Vincenzo appunto un portafoglio a basso rischio, un portafoglio più ad alto rischio, che permette quindi di investire nel lungo termine agli investitori un po' più ambiziosi, e questi portafogli sono portafogli multi-asset, che significa che investono in azionario globale, in corporate bond, in obbligazioni dei paesi emergenti, in obbligazioni dei paesi sviluppati, in commodity e così via, e sono implementati tramite ETF, quindi Exchange Traded Fund, quindi diciamo dei fondi, dei contenitori, con un numero elevatissimo di aziende al loro interno. Come vengono eseguiti? Quali sono i nostri principi di investimento? I nostri principi di investimento sono principalmente tre, e gli ETF servono appunto a raggiungerli. Quindi il primo è la diversificazione. Cosa significa diversificazione? Significa diversificazione geografica, quindi nei nostri portafogli avrete aziende americane, come avrete aziende dei paesi emergenti, come avrete aziende italiane, avrete una diversificazione settoriale, quindi in sostanza cosa succede? Che alle volte ci sono dei settori che fanno fatica, mentre altri settori invece beneficiano di alcuni ambienti macroeconomici. C'è una diversificazione appunto tra asset class, abbiamo detto prima, sono portafogli multi-asset, quindi ci sono situazioni, ad esempio di stress di mercato, in cui l'azionario magari crolla, ma l'obbligazionario quindi tende ad apprezzarsi, o il dollaro americano. La diversificazione ha proprio l'obiettivo, quindi di fornire a parità di rendimento atteso, una mitigazione del rischio. Un altro punto fondamentale della diversificazione è la diversificazione dal rischio idiosincratico, quindi dal rischio specifico di una singola azienda. Quindi abbiamo visto spesso, quindi situazioni di risparmio tradito, o situazioni in cui appunto l'investitore magari metteva tutto il suo capitale in un singolo paniere, falliva l'azienda e perdeva tutto il capitale. Con gli ETF, con la diversificazione tra diverse aziende, questo rischio è minimizzato appunto, perché la concentrazione in una singola azienda è molto bassa. L'altro focus della nostra strategia di investimento è il contenimento dei costi. Quindi investire nei mercati finanziari significa prendere del rischio, ok? L'unica cosa non rischiosa, paradossalmente, sono i costi, perché sono l'unica voce certa del rendimento di un investimento. Quindi mantenere i costi contenuti è sicuramente un vantaggio che si ha all'inizio del processo di investimento. Inoltre dobbiamo ricordarci che anche dei costi che sembrano bassi, quindi non so, 3% all'anno, se capitalizzati su un orizzonte temporale molto lungo hanno un impatto sostanzioso sul capitale a scadenza dell'investitore. Infine, l'ultimo pilastro è l'orizzonte temporale. Quindi l'orizzonte temporale significa che noi, con i nostri investimenti, aiutiamo i clienti a costruire la loro posizione finanziaria nel tempo. Quindi non cerchiamo di farli arricchire nell'arco di pochi mesi, ma cerchiamo appunto di aiutarli a consolidare il loro risparmio. Avere un orizzonte temporale lungo è molto importante e dà due principali vantaggi. Quindi il primo è che generalmente ci possono essere periodi di stress sui mercati finanziari. Ce l'abbiamo tutti in mente, il grafico dello standard in course che sale, scende, sale, scende. La verità è che generalmente, statisticamente, dopo periodi di stress, i mercati tendono a fornire dei rendimenti positivi. Questo perché, non lo so, gli investitori si spaventano, scappano dal mercato azionario e quindi le azioni, le obbligazioni, hanno quindi dei rendimenti attesi più elevati. Inoltre, un orizzonte temporale lungo permette anche di fare delle previsioni in maniera più facile. Quindi non posso sapere se tra tre mesi scoppierà una pandemia o una guerra, come abbiamo visto negli ultimi anni. Però posso sapere che nel lungo termine la crescita economica potrà essere in media del 2-3%. Ci saranno periodi di crisi, ma anche periodi di ripresa. E quindi questo rende molto più facili le previsioni. Quindi questo ci connette agli altri due aspetti del nostro tipo di gestione. Noi non analizziamo quindi se Apple farà meglio di Tesla o farà meglio di Amazon. Perché noi ci focalizziamo appunto sui trend macroeconomici e sui mercati nel loro insieme. Quindi appunto andiamo ad analizzare quindi i fondamentali aziendali, quindi dell'azionario americano nel suo complesso e appunto di come potrà andare l'inflazione, di quali sono le pressioni sulla crescita economica, di come le banche centrali quindi reagiranno a tale crescita economica, a tale inflazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi facciamo considerazioni più di alto livello. Tutto questo poi va in un'ottica di gestione del rischio. Di gestione del rischio sia quando andiamo a costruire le diverse linee, come già detto, ma anche di continuo monitoraggio quindi degli investimenti. Ad esempio, una decisione può essere a lungo o riduco il rischio tasso di interesse del portafoglio. Una decisione può essere ok, c'è un settore particolarmente quindi a rischio, magari preferisco un altro settore. e quindi c'è un monitoraggio costante da parte del team di asset allocation in un'ottica di gestione complessiva del rischio. Il grafico seguente vi mostra l'importanza di due degli aspetti che ho citato in precedenza, quindi diversificazione e orizzonte temporale. Allora, il grafico mostra diciamo una simulazione storica di diversi investimenti con diversi orizzonti temporali. Quindi se guardiamo l'asse diciamo orizzontale vi mostra appunto l'orizzonte temporale dell'investimento. Quindi avremo il numero 1 indica quindi un investimento di un anno, il numero 2 di due anni e così via fino a 19 anni. L'asse verticale invece vi mostra le probabilità di perdita che gli investitori hanno avuto in passato con un orizzonte temporale di 1, 2, 3, 4, 5 anni. Quindi, primo aspetto, orizzonte temporale. Quindi, se prendiamo ad esempio la linea nera che rappresenta l'investimento quindi in un portafoglio totalmente azionario vi mostra che quando gli investitori hanno detenuto tale investimento per circa un anno hanno perso con una probabilità di circa il 30%. Cosa successe in media se l'investitore avesse tenuto appunto l'investimento azionario per 5 anni? Quindi saliamo, partiamo dal 5, saliamo e vediamo che più o meno la probabilità di perdita si è dimezzata quindi è solo del 15%. Quindi, storicamente se un investitore avesse mantenuto un investimento 100% azionario per 5 anni avrebbe avuto quindi il 15% di perdita attesa. E questo via via con l'aumentare dell'orizzonte temporale come potete vedere la linea nera si abbassa e quindi la probabilità di perdita diminuisce. L'altro aspetto che vi mostra questo grafico è l'importanza della diversificazione. Quindi cosa succede a un portafoglio che non è 100% azionario ma è 70% azionario e 30% obbligazionario? Ovviamente la probabilità di perdita è molto più bassa. Voi mi potrete dire sì, certo, l'obbligazionario è molto meno rischioso dell'azionario e questo è vero, però c'è anche da considerare l'interconnessione quindi tra quindi tra la relazione tra azionario e obbligazionario che generalmente tendono a compensarsi nei periodi di alto stress e quindi ad esempio se prendiamo la linea Fuchsia potete vedere che dopo un anno che è un anno la probabilità di perdita è solo del 25% e poi scende drasticamente già 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni siamo già al 5%. Quindi andando nel concreto già Vincenzo vi ha accennato quali sono i ruoli, i task giornalieri del team di asset allocation e questa piramide appunto vi mostra quindi il lavoro a grandi linee che il mio team, il team dove lavoro io, fa. Quindi, sostanza, se partiamo proprio dal basso vediamo che una delle principali analisi è la selezione degli ETF quindi su Borsa Italiana ci sono migliaia di ETF quotati se prendiamo solo gli ETF sullo Standard & Poor's 500 quindi il principale indice americano ci saranno una ventina di ETF come fa un investitore sulla propria singola piattaforma a scegliere l'ETF migliore? Ovviamente può farlo ma noi creiamo questo servizio per lui quindi analizziamo gli ETF analizziamo la loro liquidità la loro modalità di replica il loro costo come hanno performato in passato e così via. Detto questo poi i ETF fanno anche mischiati quindi per costruire un portafoglio con un determinato target di rischio quindi il cliente potrà dire ok ma quanto devo comprare di azionario il 50, il 60, il 70% quant'è la perdita attesa e così via e quindi noi cerchiamo di costruire dei portafogli che dovrebbero essere quindi capaci di navigare diverse fasi del ciclo economico e finanziario. Detto questo non è che creiamo i portafogli e li lasciamo al loro destino ma c'è un'attività di monitoraggio dei mercati delle notizie dei fondamentali macroeconomici che è giornaliera quindi filtriamo le informazioni cerchiamo di capire quale informazione ha impatto sul portafoglio e quali no e alle volte quindi più o meno tre a quattro volte all'anno adattiamo il portafoglio alle nuove condizioni. ovviamente c'è un contesto anche di monitoraggio del rischio e tutte queste analisi che vengono fatte dal team di investimenti vengono poi approvate dal comitato investimenti che quindi è un comitato più ampio dove oltre al team di investimenti c'è anche l'amministratore regato di Money Farm e anche i responsabili dell'investment dei consulenti questo perché? Perché permettono comunque di garantire o comunque aumentare la probabilità che le scelte di investimento siano sempre fatte non a scatola chiusa ma sempre nell'interesse quindi del cliente finale. Cosa vede il cliente di tutto questo? Il cliente di tutto questo vede il triangolino in alto quindi il triangolino color rosa quindi sulla piattaforma il cliente vedrà la composizione del portafoglio giornalmente vedrà le performance del portafoglio su base giornaliera che non è scontato questo appunto perché gli ETF permettono di investire e disinvestire su base giornaliera e vedranno anche i ribilanciamenti che effettuiamo quindi quelle 3-4 volte all'anno in cui noi rivediamo i portafogli poi il cliente lo saprà e gli spiegheremo tramite video YouTube e-mail eccetera perché abbiamo preso determinate decisioni. Per noi è molto importante che il cliente non veda tutto il lavoro e non debba quindi essere esposto a tutto il lavoro sottostante appunto in un'ottica di rendere la finanza semplice e accessibile ai nostri clienti quindi il cliente non si deve preoccupare di tutto quello che sta sotto ma semplicemente vedrà i suoi portafogli pianificherà con il team di Vincenzo la sua posizione finanziaria il suo futuro finanziario e agli investimenti ci pensiamo noi in maniera più trasparente possibile. Non sono sceso nel dettaglio della nostra strategia di investimento tattica strategica eccetera ma a fine della la fine di questa webinar riceverete il documento della nostra strategia di investimento che andrà molto di più nel dettaglio quindi vi spiegherà quali sono le varie variabili che analizziamo che tipo di considerazioni prendiamo e così via. Adesso passo la parola di nuovo a Vincenzo che vi parlerà quindi dei costi perché sono importanti come già vi dicevo e delle performance dei portafogli Manifarman negli ultimi 5 anni. Eccoci qua allora riprendiamo appunto la scaletta che vi avevo dato inizialmente avevo detto che avremmo toccato dei punti sensibili ecco come quello dei costi delle performance sia da un punto di vista che riguarda Manifarm che per quanto riguarda eventualmente anche altre opzioni che possono essere disponibili sul mercato. Quindi partiamo da quelle che sono le commissioni Manifarm. Allora noi appunto crediamo molto nella trasparenza e nell'indipendenza quindi per questo motivo abbiamo deciso ci sembrava ovvio ecco chiarire e avere una struttura commissionale estremamente chiara e semplice. Il commissionale Manifarm può essere di quattro tipi per quanto riguarda la gestione patrimoniale e varia a seconda del capitale investito. Quindi per importi investiti da 5.000 a 19.999 euro quindi diciamo 20.000 euro il costo è dell'1% più IVA per importi da 20.000 a 200.000 euro scende allo 0,75 per arrivare a dimezzarsi rispetto al costo iniziale in caso di investimento tra 200.000 e 500.000 euro arriva allo scaglione più basso che quello pare lo 0,4% più IVA per importi investiti oltre 500.000 euro Come andiamo a calcolare questo commissionale? Andiamo a prendere il controvarore dell'investimento su base quotidiana quindi molto semplicemente applichiamo un 365 della percentuale equo annuale sull'importo giornaliero il cliente Manifarm vede all'interno della propria posizione mese per mese esattamente quanto importo è stato detratto ai fini commissionali con anche una documentazione nella riservata che va anche a chiarire tutti gli importi giorno per giorno e la commissione applicata quotidianamente aggiungo che sempre per massima trasparenza diciamo così chiariamo anche quelli che sono i costi degli strumenti finanziari inseriti nei portafogli in questo caso gli etf il costo medio dei tf che abbiamo in portafoglio è dello 0,2% in più andiamo abbiamo anche cercato di quantificare quello che è il costo indiretto che un cliente potrebbe dover sopportare diciamo così in seguito alle operazioni di compravendita specifico che non sono delle commissioni di compravendita in quanto l'unica commissione che il cliente paga è quella espressa in forma percentuale in questa slide tuttavia nel momento in cui magari qualcuno di voi che ha un po' più di esperienza di investimento lo saprà sicuramente nel momento in cui si compra o vende uno strumento finanziario sui mercati ci sono dei prezzi diversi nel momento in cui lo si compra e nel momento in cui lo si vende ci tengo anche a sottolineare che questo commissionale è l'unico che Money Farm percepisce e lo percepisce direttamente da voi quindi dai nostri clienti non c'è alcun tipo di ulteriore interocessione sulla base degli strumenti che proviamo ai clienti quindi anche questo è un chiaro segnale di indipendenza ma a questo punto andiamo a vedere un attimino anche ok questo è il costo di Money Farm ma come si pone rispetto alla concorrenza abbiamo fatto uno studio un'analisi utilizzando dati di Morningstar un sito pubblico che mette a disposizione tantissime informazioni per quanto riguarda gli strumenti finanziari magari qualcuno di voi lo conoscerà sicuramente ed abbiamo condotto questa analisi internamente e anche con la collaborazione dell'associazione consulente finanziaria indipendenti della Scofind abbiamo identificato diciamo così tre categorie in termini di linee di investimento per specifico livello di rischio conservativa moderata aggressiva per quanto riguarda Money Farm vi ho detto prima che Money Farm ha sette linee di investimento in termini di livello di rischio abbiamo preso in considerazione le sei linee a partire dalla 2 alla 7 in quanto ci riferiamo a portafogli multi asset mentre la linea 1 è esclusivamente obbligazionaria la linea 2 e 3 rappresentano delle allocazioni conservative quindi caute la 4 e la 5 rappresentano delle allocazioni moderate la 6 e la 7 aggressive abbiamo calcolato quello che è il costo mediano dei fondi gestiti di un ampio basket di fondi gestiti che ne rappresenta la maggioranza e possiamo vedere che sia nel caso in cui il pricing applicato da my farm sia quello relativo al secondo scaglione 20-200 mila euro quindi dello 0,75% più IVA oppure quello del terzo scaglione quindi da 200 mila a 500 mila i costi sono nettamente più bassi quanto meno dimezzati perché è importante parlare di costi perché i costi come giustamente diceva Michele soprattutto nel lungo termine anche in ottica di capitalizzazione hanno un peso rilevante poi su quelli che sono i risultati in termini di performance anche qui abbiamo fatto una simulazione chiarisco appunto che si tratta di una simulazione ipotetica con delle performance ipotetiche che quindi non rappresentano assolutamente una garanzia di rendimento nel futuro questo è chiaro anche perché poi sapevo benissimo che i rendimenti nel corso del lungo termine non vengono dati in maniera fissa ma vengono dati da annate più o meno positive combinate e mediate questo è l'esempio un cliente magari che ha investito 100.000 euro dopo 5 anni vedete che il differenziale di costo è importante ipotizzando un rendimento del 6% all'anno siamo intorno a 6.600 euro con Manifarm più del doppio con il costo medio dei fondi che abbiamo preso in considerazione con la nostra analisi a questo punto magari qualcuno si potrà domandare ok va bene Manifarm costa meno però c'è anche un altro aspetto delle performance quindi è molto importante anche l'aspetto delle performance abbiamo analizzato anche quello sempre utilizzando lo stesso approccio quindi la stessa fonte di dati lo stesso supporto nell'analisi non scendo nei dettagli della metodologia troverete il link vi verrà condiviso in chat dove potrete accedere vi ricondurrà il nostro blog e troverete se ne avete piacere lo studio per intero anche qui abbiamo usato la stessa categorizzazione relativa ai costi e abbiamo calcolato le performance sia nostre che i rendimenti annualizzati mediani dei fondi comuni tenendo in considerazione una stima delle commissioni di gestione annuale e di quelle di ingresso più o di uscita e i rendimenti chiaramente sono all'ordo delle tasse e anche di eventuali commissioni di performance chiarisco anche che sono aggiornati alla fine del 2022 andiamo a vedere anche in questo caso qui che money farm su tutte le linee dalla della cauta alla moderata all'aggressiva si pone nel primo quartile su un orizzonte temporale significativo che è quello di 5 anni vediamo che anche in questo caso si ripropone in un certo senso lo stesso rapporto che c'era con i costi forse addirittura più marcato ecco anche in questo caso le performance sono quasi doppie rispetto alla media ecco quindi questo anche per andare a a smarcare ecco a chiarirvi lo ritiene molto importante il discorso dei costi ma rapportato alla qualità qualità che poi non è solo performance ma è anche servizio quindi tutto quello che ha detto Michele finora avere un team di consulenti a disposizione avere una tecnologia avanzata a disposizione avere una piattaforma che vi permette di evitare ecco di muovervi di andare in filiale piuttosto che fare diverse operazioni di home banking ma di avere un app o altro di accesso immediato semplicità e immediatezza a questo punto l'ultima domanda ecco che era quella che diciamo così assale un attimino chi si accinge a cominciare un investimento è il momento buono è una buona idea faccio bene non faccio bene in questo caso ripasso nuovamente la parola Michele così avete anche un punto di vista magari oltre che di un consulente anche di di un gestore ecco e proverà a rispondere a questa domanda allora è un buon momento per investire la risposta classica che si dà è sempre un buon momento per investire che può sembrare un po' strana però in realtà ha le sue ragioni quindi già Vincenzo all'inizio della webinar vi spiegava quali sono le sfide anche da un punto di vista pensionistico quindi quanto è importante avere un patrimonio quando sarà importante avere un patrimonio quando andremo in pensione ad esempio e poi appunto quello che vi dicevo io prima relativamente all'orizzonte temporale quindi più è lungo l'orizzonte temporale più diciamo è meno probabile quindi che il capitale ritirato sia più basso del capitale investito ma andiamo a parlare di mercati e andiamo a parlare di quello che vediamo ad oggi sui mercati allora veniamo da un anno molto strano tutte le considerazioni che ho fatto prima sulla diversificazione tra bonde ed equiti l'anno scorso non hanno funzionato perché le banche centrali hanno alzato i tassi e l'azionario e l'obbligazionario non l'hanno presa tanto bene quindi ovviamente con tassi più alti le aziende aumentano i propri costi ci si può aspettare una crescita più bassa e svariati motivi quindi cosa è successo che l'anno scorso abbiamo visto sia l'azionario sia l'obbligazionario avere dei rendimenti negativi noi ogni anno all'inizio di ogni anno formuliamo la strategica asset allocation quindi asset allocation strategica strategica cosa vuol dire un asset allocation quindi portafoglio una stima dei rendimenti attesi di lungo periodo quindi di circa dieci anni quindi depuriamo quindi il nostro mondo da tutte le notizie di brevissimo termine e ci focalizziamo sulla crescita di lungo termine e sulle valutazioni odierne questo esercizio viene fatto ogni anno ormai da parecchi anni e cosa mira a fare? mira a considerare se la crescita futura dell'economia è diciamo sufficiente a compensare i prezzi che vediamo oggi sul mercato dell'azionario dell'obbligazionario quindi combinando questi due aspetti quindi crescita e valutazioni andiamo a stimare quindi si tratta comunque di una stima i rendimenti attesi delle varie asset class quindi dei vari strumenti finanziari su cui investiamo a lungo termine cosa succede? che il fatto che l'anno scorso i tassi siano saliti in maniera così preponderante quindi il treasury americano ha superato il 4% ha fatto sì che comunque è vero che l'anno scorso sì ci sono state delle perdite negli investimenti ma in futuro l'obbligazione americana senza rischio renderà quindi il 4% il 3,5% quindi questo fa sì che comunque anche le altre asset class che generalmente forniscono un premio a rischio perché sono appunto più rischiose hanno visto i propri rendimenti attesi di lungo periodo salire lo vediamo da questa slide questi sono diciamo rendimenti attesi stimati a inizio anno quindi al 31-12 adesso ci sono state delle movimentazioni di mercato quindi potrebbero essere cambiati ma diciamo la figura complessiva è quella di rendimenti attesi molto solidi questi sono rendimenti annualizzati e quindi se li andiamo a contestualizzare rispetto alle nostre stime degli anni passati quindi passiamo a questo grafico questo grafico vi mostra quindi le nostre estime degli anni passati sulle varie asset class quindi diciamo i bin i quadrotti quindi grigi sono le nostre stime storiche mentre il quadrato il rettangolo blu rappresenta la stima dei rendimenti attesi a dieci anni che abbiamo effettuato quest'anno quindi mi focalizzerei principalmente sull'azionario dei paesi sviluppati e quello che possiamo vedere è che il rendimento atteso rispetto all'anno scorso è praticamente triplicato questo appunto perché le valutazioni si sono abbassate i tassi di interesse sono saliti e quindi ci sembra che date le nostre stime si tratta comunque di stime per il lungo termine sicuramente il 2022 ha reso un terreno fertile da oggi in avanti ok direi che noi la nostra presentazione l'abbiamo conclusa speriamo sia stato di interesse colgo l'occasione appunto per ricordarvi ecco che in qualsiasi momento potete decidere di fissare un appuntamento con noi piuttosto che di chiamarci trovate qui riferimenti oppure anche semplicemente andando sul nostro sito www.moneyfarm.com slash it ok a questo punto direi che possiamo anche passare alla sezione di domande risposte ne abbiamo già ricevuta qualcuna adesso magari possiamo ecco divertirci a selezionarne selezionare qualcuna per provare a dare un po' delle risposte perdonatemi se magari adesso mi concentro un attimino sul computer così riesco almeno a leggerne qualcuna allora vediamo un po' papà papà e poi allora allora possiamo sono in realtà tutte quante più incentrate su che non ce le ecco fino a là quindi la seta location allora ad esempio abbiamo qui vediamo un po' l'elevato livello attuale dei tassi di interesse rende consigliabile incrementare gli investimenti nell'azionario l'hai già citato in parte quando hai parlato dei rendimenti attesi magari possiamo dire qualcosa in più ad Andrea sì allora è una domanda molto interessante perché ovviamente rispetto a prima a parità di livello di rischio quindi si può ottenere un rendimento più elevato si stima che si può ottenere un rendimento più elevato quindi diciamo non c'è una risposta corretta dipende un po' dal dagli obiettivi di investimento di ciascuna persona quindi se una persona quindi ha l'obiettivo di consolidare il proprio patrimonio non vuole prendersi rischi sa che potrà avere dei rendimenti attesi più alti nel eh che in passato nei portafogli a medio rischio se invece una persona è ha un orizzonte temporale molto lungo una propensione a rischio più elevata e appunto vuole accumulare capitale eh per la propria pensione eccetera c'è a dire che anche i rendimenti dell'azionario sono saliti e quindi in base alla sua propensione al suo obiettivo di investimento potrebbe comunque decidere di investire comunque nazionali ok io risponderei a un'altra domanda che secondo me può essere di molto di interesse ecco per chi si accinge a diventare cliente money farm oppure appunto ha già un account e può cominciare ad investire che riguarda un po' la sicurezza Silvano chiede il patrimonio che mettiamo in money farm viene depositato presso una banca se sì quale e se ci sono costi relativi allora money farm opera appunto senza apertura di un conto corrente intestato al cliente chiaramente money farm è appunto una società di intermediazione di gestione del risparmio come funziona l'investimento in money farm allora money farm ha chiaramente dei conti correnti e delle posizioni aperte per tutte le proprie necessità aziendali poi come la normativa impone in particolare il test unico bancario ha aperto anche una posizione che è definita segregata ossia separata dal patrimonio dell'azienda stessa dove vengono depositate tutte le somme dei clienti nonché gli etf acquistati questa posizione ha diverse sottorubriche ciascuna sottorubrica all'indicazione del beneficio finale che il cliente stesso quindi il cliente diciamo che già nel momento in cui vale aprire la posizione con money farm collega il proprio conto corrente personale che viene verificato tramite un processo informatico un mandato SEPA per accertarsi che effettivamente sia lui il titolare di quel conto corrente il cliente bonifica questi soldi su un IBAN che forniamo noi che è un IBAN sempre di un conto corrente intestato a money farm presso bancasella lì diciamo così la liquidità giace per mezza giornata al massimo in quanto viene immediatamente trasferita quella che è la nostra banca depositaria che nel dettaglio è Saxo Bank è un colosso danese molto focalizzato ed esperto in particolare per quanto riguarda appunto depositi piattaforme ed è tra l'altro anche il partner delle gestioni patrimoniali di banca generale quindi questo è un po' il funzionamento in qualsiasi momento il cliente può richiedere anche così come avversato di prelevare le somme dopo aver liquidato la posizione in quel caso lì la liquidità fa lo stesso percorso dal subaccount dalla sottorubrica con beneficiario finale cliente specifico la liquidità viene spostata nuovamente sul diciamo così lo step intermedio di bancasella e trasferito sul conto corrente del cliente i soldi possono essere trasferiti in uscita solo su conti correnti precedentemente verificati quindi i soldi possono uscire esclusivamente verso conti correnti che hanno come intestatario o quantomeno cointestatario lo stesso mono intestatario dell'account Manifar quindi questo è per la vostra massima sicurezza e tornando al discorso delle posizioni segregate anche qualora Manifar non dovesse avere delle problematiche in ogni caso la liquidità e gli strumenti depositati sulla presso la banca depositata Saxo Bank non sono patrimonio di Manifar quindi sono tutelati da qualsiasi tipo di rischio aggiungerei una cosa che prima probabilmente abbiamo detto ma magari è passata un po' in sordina uno dei servizi che offriamo come Manifar è anche il trading quindi il cliente non si dovrà preoccupare di avere la sua piattaforma e comprare e vendere gli etf lo facciamo noi tramite Saxo Bank per il cliente e i costi di trading i bid a spread sono ovviamente a carico del cliente ma i costi di trading quindi quelli che paghereste le figli che paghereste la vostra piattaforma sono in capo a Manifar e anche i costi di deposito quindi presso la banca depositaria sono sempre in capo a Manifar ok un'altra domanda a cui risponderei perché è arrivata da diversi di voi potreste spiegare la gestione della tassazione piuttosto che utilizzare sull'etf non è uno svantaggio globale a causa della tassazione cerco di fare un repilogo anche su questo perché è molto importante della motivazione per cui consigliamo ai clienti di investire in gestione patrimoniale perché la gestione patrimoniale è caratterizzata dal regime di risparmio gestito la maggior parte di voi suppongo investendo magari su un dossier titoli presso la banca quella posizione invece è caratterizzata dal regime di risparmio amministrato allora io parto dal regime di risparmio amministrato per darvi un po' le differenze il regime di risparmio amministrato la fiscalità si applica nel momento in cui una posizione viene liquidata che sia totalmente o parzialmente in quello stesso momento se la singola posizione in guadagno si paga l'imposta 26% piuttosto che 12,5% se si tratta di titoli di stato inseriti in white list e si ottiene invece una minusvalenza qualora si vendesse in perdita lì la compensazione avviene a seconda dello strumento nel senso etf e fondi comuni di investimento che sono gli strumenti più comuni di base generano delle plusvalenze che sono considerate redditi da capitale la normativa in ambito di regime amministrato permette esclusivamente la compensazione di redditi diversi ok quindi eventuali plusvalenze fatte realizzate su fondi o etf in amministrato non sono compensabili in alcun modo sono compensabili magari quelle per farvi un esempio della singola azione della singola obbligazione piuttosto che dei certificati ingestito invece quindi regime proprio di manifarme della gestione patrimoniale la fiscalità viene applicata a scadenza fissa al 31-12 a prescindere dalle liquidazioni o i nuovi acquisti fatti nel corso dell'anno solare quindi si va ipotizzando che non ci siano flussi di casse in ingresso o in uscita si va a guardare il controvalore della posizione al primo gennaio al 31-12 si va a calcolare la fiscalità sempre tenendo conto della liquida il 27,5% che ho chiarito prima questo permette di non pagare alcuna fiscalità nel momento in cui si va a fare un ribilanciamento ricordiamo che in un ribilanciamento ne possiamo comprare 3 TF e venderne altri 3 magari questo genera delle vendite in perdita non ha alcun impatto i dividendi vengono staccati all'ordo delle imposte in amministrato nel momento in cui il dividendo viene staccato anche se magari la performance secco dello strumento è negativa viene immediatamente tassato in gestione patrimoniale invece il dividendo concorre in quanto viene depositato all'interno del portafoglio concorre alla generazione del reddito annuale del rendimento annuale e quindi dell'utile eccolo chiamiamolo così quindi a scadenza fissa a fine anno si va a calcolare l'imposta qualora l'anno dovesse concludersi come ad esempio il 2022 con un risultato di gestione negativo questo può essere compensato questa minusvalenza nei 4 periodi di imposta successivi a quello di realizzo quindi la gestione patrimoniale permette a tutti gli effetti di rendere efficienti degli strumenti che in amministrato non lo sono da un punto di vista fiscale quindi ottenendo un'efficienza fiscale e anche appunto mantenere l'efficienza propria degli strumenti finanziari etf a tal proposito magari vediamo se riusciamo ad aggiungere il link anche nella chat abbiamo recentemente aggiunto prodotto uno studio anche sulla fiscalità andando a confrontare le somme il totale fiscale pagato su un portafoglio in amministrato a partire dal 2012 e oggi in Manifarm contro quello gestito ipotizzando la simulazione nel 2021 ipotizzando anche l'eventuale liquidazione nel 2021 22 ed eventualmente con una proiezione nei prossimi anni dove potete trovare diverse evidenze se ne avete piacere potete anche contattarci o scriverci per approfondirla magari abbiamo tempo ancora per qualche domanda c'è una domanda ricorrente relativa al con il gestito devo presentare qualcosa al commercialista o vi occupate voi di tutto allora qui rispondo nuovamente io Manifarm funge da sostituto d'imposta infatti questa era una parte che effettivamente mi poteva mancare la spiegazione precedente tutti i calcoli fiscali tutte le compensazioni tutti gli addebiti tutti i versamenti dell'agenzia delle entrate sono fatti da Manifarm in qualità di sostituto d'imposta quindi non c'è alcun tipo di dichiarazione da fare né null'altro insomma viene tutto quanto fatto in automatico c'è una domanda interessante che è che ha fatto Filippo quindi confronto tra il vostro servizio e BTP bot allora c'è stata tanta attrazione tanto interesse nei BTP appunto per quello che dicevo prima i tassi nel 2022 sono saliti molto e quindi le cedole sembrano molto appetili però diciamo un investimento di tutto il proprio patrimonio in BTP non va non è in linea con i nostri principi di investimento quindi ovviamente c'è il rischio Italia quindi nel senso al di là del rischio di fallimento del nostro paese c'è anche il rischio spread banalmente quindi qualora ci dovessero essere degli stress sul sul nostro sul nostro paese gli spread potrebbero allargarsi portando quindi delle perdite di market value di valori di mercato del BTP ovviamente il discorso potrebbe essere diverso se ad esempio un BTP decennale venisse tenuto fino a scadenza quindi per dieci anni però bisogna comunque confrontare i rendimenti di un portafoglio multi asset con una componente di azionario in dieci anni rispetto a un BTP che anche può offrire una cedola interessante anche perché il BTP consideriamo che è un investimento a reddito fisso quindi comunque la cedola è fissa e è più soggetto all'inflazione rispetto all'azionario in un'inflazione normale quindi un mercato che cresce in maniera sana non come quello che abbiamo visto negli ultimi anni con un'inflazione del 2 il 3% quindi la risposta è banalmente prima di tutto il BTP quindi è un'obbligazione quindi si va a posizionare in un contesto di rischio basso nel senso di volatilità bassa quindi non è paragonabile a un investimento azionario però porta con sé un rischio intrinseco quindi il rischio paese Italia che è abbastanza sostanziale noi come principio di investimento suggeriamo sempre di focalizzarci sulla diversificazione ok allora io direi che le domande sono tantissime magari cerchiamo di selezionarne ancora un paio diciamo che ce n'era una Michi che si avvicinava un pochettino a questa una comparazione tra BTP e BOT rispetto ad altri prodotti un cliente ci ha chiesto perché dovrei investire con voi piuttosto che con Vanguard qui sicuramente lascio la porla Michele vorrei dare anch'io un feedback ecco in merito allora immagino che il cliente si rifisca ai life strategy di Vanguard che sono appunto degli ETF che hanno un mix diciamo quindi di esposizione all'azionario piuttosto che all'obbligazionario senza entrare nei dettagli che magari c'entra Michele la differenza grossa dal mio punto di vista oltre alla parte di asset location è il fatto della consulenza è sempre difficile dal mio punto di vista gestire l'investimento fare delle scelte di incremento diminuzione cambiamento quello che mettiamo a disposizione non è proprio la parte umana che descrivevamo prima quindi un consulente a disposizione con cui confrontarsi approfondire il mercato aggiornare la propria strategia di investimento questo io da considerare una grossissima differenza non so se Michele vuoi aggiungere qualcos'altro da un punto di vista più tuo concordo è una tematica molto importante quella della consulenza che viene alle volte quindi diciamo non gli viene data l'importanza che ha faccio un esempio covid quindi crollano i mercati tutti impanicati hanno disinvestito se tu disinvestivi durante il crollo del covid ti portavi a casa la perdita i mercati hanno rimbalzato nessuno nessuno si aspettava che i mercati rimbalzassero in maniera così repentina quindi come è successo che i clienti impanicati che hanno chiamato il team di Vincenzo e gli hanno chiesto devo disinvestire cosa sta succedendo il team di Vincenzo ha detto focalizzati sul lungo termine alla gestione del rischio ci pensa il team di investimento sono rimasti investiti e non hanno capitalizzato la perdita e qua si parla di mercati che sono crollati anche del 10% in una giornata quindi a nostro avviso quindi ritornando quindi allo schema che vi ha fatto vedere Vincenzo quindi con da una parte la consulenza e dall'altra parte il servizio di investimento a nostro avviso per offrire un buon servizio di gestione finanziaria per il cliente servono tutte e due quindi puoi avere il portafoglio migliore del mondo ma se poi non gestisci adeguatamente i sussi di cassa quindi i prelievi di investimenti di disinvestimenti all'interno del portafoglio non serve assolutamente a niente ok io concludo solo con l'ultimissima c'era un cliente che aveva chiesto c'è un importo minimo per investire è possibile fare un pack l'importo minimo è di 5.000 euro come avete visto partire anche da quale parte anche il primo scaglione di commissionale noi il nostro obiettivo era quello di dare la possibilità a chiunque di investire come any farm sia chi è già patrimonio che magari sta cominciando ad approcciarsi al mondo del risparmio quindi 5.000 euro il minimo poi chiaramente si valuta posizione per posizione perché deve essere una pianificazione e bisogna andare a lavorare sul patrimonio che si ha a disposizione per l'appunto visto che il cliente chiedeva anche del pack è assolutamente possibile fare un piano d'accumulo di capitale in particolare a maggior ragione su posizioni magari di 5.000 10.000 euro andando a dedicare a lungo termine all'investimento nel lungo termine il risparmio sul reddito che si ottiene mese per mese quindi andando ad investire un capitale che oggi non c'è ma viene a crearsi col tempo non ci sono costi di ingresso non ci sono costi per bloccare il piano d'accumulo tutto ciò che viene trasferito 100, 200, 300, 400 euro al mese viene investito sui portafogli ok direi che abbiamo anche sforato con il tempo quindi abbiamo cercato di rispondere a più persone possibile anche con l'auto dei nostri consulenti speriamo appunto che il tutto sia stato di vostro interesse confermo che siamo a completa disposizione qualora vogliete contattarci come ci auguriamo ecco tutto il team di consulenza per rispondere nuovamente alle vostre domande e darvi tutte le indicazioni del caso ultimissima cosa che vi dico nel momento in cui chiuderete la connessione o comunque finirà il meeting troverete un breve questionario a cui rispondere ci farebbe molto piacere se riusciste a farlo perché eventuali suggerimenti feedback o d'altro per migliorare il tutto sono sempre molto ben accetti grazie mille grazie grazie buona serata grazie mille grazie mille grazie mille